Quante volte ti è successo che il tuo miglior amico a quattro zampe ti ha rotto o graffiato i mobili di casa? Così hai dovuto punirlo e naturalmente ripulire tutto lo sporco in giro. Anche perché certi materiali come le poltrone o i peluche sono molto dannosi per la loro salute. Intergross introduce sul mercato Pack Buddy, il giocattolo ideale per cani e gatti. Una specifica somiglianza ad un animale vero che attrae molto gli animali domestici per giocare. Pack Buddy è morbido, l'indistruttibile giocattolo con una forma di un animale e con un involucro speciale per il vostro cane o gatto. Ci gioca talmente volentieri che non gli viene più in mente di rovinare i vostri mobili. Il giocattolo ha in dotazione un fischietto, così che invoglia ancora di più l'animale a giocarci. Pack Buddy della Intergross è adatto sia per cani che per gatti, grandi o piccoli, cuccioli o adulti. È composto da un materiale indistruttibile, ha una cucitura speciale che non si rompe mai. Pack Buddy viene garantito come giocattolo per i vostri amici a quattro zampe. Può essere usato sia fuori che dentro. Lo puoi lavare sia in lavatrice che a mano. Allora, cosa aspetti? Prendine uno o più di uno e paghi alla cassa. Intergrossing Store Video, novità di qualità.